Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone tendenze energetiche generali per il prossimo semestre 2023. Abbiamo la carta delle stelle, amici del Leone, le stelle parlano di idee, di sogni, di canalizzazioni e anche quella carta che è collegata con il destino perché si dice che il destino si è scritto nelle stelle, quindi è come se per destino qualche cosa dovesse succedere nel prossimo semestre. E' anche una carta collegata alla speranza, quindi è come se fosse un invito a sperare di più. Andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Ragazzi, se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio potete ascoltare anche l'ascendente, il segno lunare o venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di più oroscopi, trovate il link al video che vi spiega di che cosa tratta tutta la sezione riservata agli abbonati e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, la prima linea riguarda la crescita spirituale, la seconda linea che andremo a vedere andrà a vedere un attimino i movimenti energetici per quello che riguarda le relazioni in generale, quindi sia gli affetti familiari, le amicizie e anche le relazioni romantiche. La terza linea sarà poi per il lavoro e l'economia e nell'ultima linea andremo a vedere poi dei consigli aggiuntivi. Per ognuna di queste prime tre linee, quindi per la crescita spirituale, per le relazioni e per il lavoro, seguiranno poi dei video di approfondimento dove andrò a spiegare queste carte con i mini tarocchi. Dunque ragazzi, devo dire che c'è una questione legata o alla vostra polarità diciamo maschile o a quello che riguarda un'influenza che voi avete ricevuto comunque nella vostra vita e con la quale dovete convivere. Ma parlo dell'influenza, non della persona. Cioè l'influenza che questa persona ha avuto su di voi ha ancora un certo tipo di pesantezza nella vostra vita. Essendo un re di spade qui, si potrebbe parlare di qualche tipo di rigidità mentale o di ordine o di struttura o di regola che probabilmente avete imparato o vi è stata data e che avete bisogno di ammorbidire un pochettino o perlomeno questo è il trend del prossimo semestre. È come se aveste bisogno di aria fresca, di cose nuove, di ritrovare un pochettino l'entusiasmo o come la sensazione perché c'è anche la regina di spade quindi qui si tratta eventualmente di appunto lasciarsi indietro tagliare certe potrebbero anche essere relazioni per qualcuno in effetti però come la sensazione che sia necessario trovare un nuovo inizio avere un non dico un nuovo scopo di vita però tenete presente che avete la stella quindi è come se ci fosse la necessità di porsi nuovi obiettivi proprio per mettersi un pochettino alla prova su quanto può essere flessibilizzata resa flessibile la vostra mentalità la vostra struttura mentale è un po questo il senso o come l'idea che dobbiate ricostruire un vostro tipo di struttura di ordine di regole come se quelli che vi sono stati insegnati non vi appartenessero più tanto avete bisogno di novità di freschezza appunto con questo con questo matto interessante poi terminiamo la linea con un fante di coppe al contrario guardate non vi fate troppo prendere ma è quello su cui dovrete lavorare non vi fate troppo prendere dall'emozione perché avendo appunto questa regina di spade dovete fare un programma dovete fare una sorta di scaletta di priorità andiamo avanti vediamo che cos'altro vi riesco a dire da un punto di vista emotivo e relazionale 5 di spade 5 di coppe la sacerdotessa ruota della fortuna vediamo come termina la linea e 10 di denari 10 di bastoni lo lasciamo per la linea dopo dunque ragazzi iniziamo con un 5 di spade che è una carta tendenzialmente di conflitti mentali che potrebbero essere sia interni che esterni i conflitti mentali esterni sono diciamo le discussioni che si potrebbero avere con altre persone che sono un po fini a se stesse che sono solo una lotta per vedere chi vince piuttosto che un confronto sano per capire che tipo di soluzione portare al problema e questo potrebbe portare anche questo 5 di coppe quindi una sorta di delusione una sorta di anche tristezza mi verrebbe da dire ragazzi ma è credo che sia portata da questo 5 di spade sarà interessante poi andare a vederlo con i mini tarocchi diciamo che avete anche la sacerdotessa e la ruota della fortuna allora la sacerdotessa è una carta che parla di intuizione di canalizzazione esattamente anche un po come le stelle fanno riferimento alle idee che arrivano e poi abbiamo questa bellissima ruota della fortuna io qui ho come la sensazione che inizierete a vedere oltre un certo tipo di realtà la sacerdotessa e con lei che vede oltre la dualità ci potrebbe anche essere un qualche tipo di nuovo hobby di viaggio di percorso inerente al lavoro del divino femminile e divino maschile come come vi accennavo all'inizio potrebbe anche essere una persona ragazzi mai più un fatto che potrebbe essere una persona che vi venga in aiuto e per poche persone per la maggior parte è più un vostro istinto un vostro impulso ad andare a cercare ad andare a ricercare proprio anche per conoscere per riuscire a vedere le cose da un punto di vista più ampio e sento che potreste farcela anche perché poi appunto avete la ruota della fortuna qui qualche cosa cambia a livello relazionale ragazzi e terminiamo anche con un 10 di pentacoli quindi è una carta di compimento sono due dieci tra l'altro sono due carte di compimento sono due carte del raggiungimento di risultati è un po come se qui ci fosse una situazione di conflitti ma con la sacerdotessa con questa sacerdotessa parla anche di doti psichiche una volta che si passa diciamo il momento della sacerdotessa è come se le cose appunto arrivassero a compimento la carta della papessa indica anche il passaggio attraverso la dualità cioè che se ci fosse per caso un dubbio una scelta da dover effettuare con la carta della sacerdotessa è una carta che vi dice che la scelta sarà fatta nel modo giusto nel modo diciamo migliore per voi e poi abbiamo appunto questa ruota della fortuna questo dieci di pentacoli che vi dirò si parla di una stabilità familiare e quando c'è dieci di pentacoli si parla di una famiglia allargata di un gruppo interessante andiamo a vedere la linea del lavoro allora abbiamo un dieci di bastoni un 4 di bastoni la carta dell'eremita l'imperatrice e la luna tanti arcani maggiori dunque amici del leone 10 10 anche qui direi che nella parte lavorativo barra economica ci potrebbe essere un cambio questa rotta della fortuna farà il suo lavoro ragazzi il 4 di bastoni potrebbe voler dire che o voi deciderete di concludere qualche tipo di contratto qualche tipo di collaborazione se per esempio però non state collaborando con nessuno potrebbe indicare una sorta di diciamo alto e basso lavorativo che non è necessariamente legato all'alto e basso finanziario potrebbe ma non lo è del tutto perché comunque con la carta dell'eremita un po come se vi dicessero che avete tutte le doti le conoscenze per andare verso questa imperatrice l'imperatrice sono i progetti i viaggi la prosperità l'abbondanza diciamo che avendo la luna e le stelle si potrebbe parlare di sogno perché abbiamo anche la guardate avete tutto tra le carte che parlano di canalizzazioni di doti psichiche di ipersensibilità intesa come iperpercettività non so se mi sono capita comunque si dai e la luna parla anche di quelle cose che non si vedono e ricordatevi che con la società testa si vede al di là è un po come se riuscirete a vedere oltre dovete forse un po flessibilizzare certe regole mentali che avete e fare una vostra scala di priorità per quello che volete raggiungere però come la sensazione che vi legherete da certi vincoli per trovare la vostra prosperità per anche per sperimentare il vostro lato d'ombra è perché la luna parla sempre di quello che sono le nostre paure e le nostre proiezioni andiamo a vedere l'ultima linea che consigli che avvertenze che altro vi posso dire insomma allora la forza 2 di pentacoli gli amanti wow carro vediamo l'ultima carta ok e questa la mettiamo qui ok allora ragazzi quando c'è un nuovo obiettivo adesso non si vede più la carta della stella vera metto qui quando c'è un nuovo obiettivo un nuovo sogno che si vuole inseguire bisogna anche mettere oltre a quello che sono magari gli esercizi di visualizzazione piuttosto che non lo so le meditazioni bisogna anche però fare qualche cosa poi da un punto di vista concreto ritorniamo poi di nuovo alla regina di spade che vi dice fatevi un programma fatevi un prospetto fissate gli obiettivi diciamo per grandezza è un po quello che non vi fate prendere troppo dall'entusiasmo o dal panico mi viene anche da dire perché quando poi l'obiettivo è troppo grande ci si spaventa quindi è meglio procedere per passi però ecco devo dire che è un po quello il l'avvertimento rinforzo il consiglio che vi vogliono dare spostatevi fate progetti provate ad allargare raggio d'azione poi depennate cercate di capire che qual è la vostra priorità e come si può raggiungere quell'obiettivo sia che sia lavorativo sia che sia relazionale devo dire ragazzi che con questa bella 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 carta degli amanti allora può parlare di due cose se per esempio siete già in una relazione la carta degli amanti parla di una relazione in equilibrio o di un lavoro che farete sul vostro amor proprio che vi porterà veramente ad un equilibrio ad una sicurezza di voi senza pari mi verrebbe da dire poi arriva un po tutto insieme no sicurezza abbondanza prosperità cioè quindi vedere carte bellissime abbiamo anche questo carro di nuovo anche qui è uscito un 3d bastoni tenete presente che potranno essere molto utili gli spostamenti perché durante gli spostamenti potreste conoscere persone importanti se siete single potrebbe essere proprio durante uno di questi viaggi di questi spostamenti che potreste incontrare magari per qualcuno è il partner o la partner ideale per qualcun altro mi parlano di comune quindi come se fosse un posto ideale per poter vivere in comunità tutti insieme in pace e armonia il 9 di spade ragazzi qui c'è qualche cosa del passato che ancora vi preoccupa vi attanaglia tenete presente che qui avete sei di coppe e qui avete il matto per molte persone queste paure potrebbero essere legate a qualche cosa che risale all'infanzia quindi in questi casi potrebbero essere utili dei lavori sul bambino interiore per esempio però è come se vi esortassero da tutti i lati a a girare a cambiare a espandervi sia cambiare a viaggiare ce l'avete qui qui il viaggio a non creare troppi come vi posso dire con questo quadro di bastoni è un po come se vi dicessero di non creare troppi legami contrattuali e anche se per esempio siete senza lavoro ragazzi allora qui potrebbe essere il fatto che qualcuno cambi lavoro appunto e decide a un certo punto di andare per la propria strada con successo devo dire perché avete comunque anche l'imperatrice e per qualcun altro è il non sottostare più a certi compromessi a certi equilibri e quindi iniziare a fare proprio un lavoro di autoconoscenza su che cosa è quello che ci spinge nella vita e vi dirò che l'imperatrice è anche qui per suggerirvi di prendervi cura di voi stessi di diventare anche madri migliori vi dico qui c'è qualche cosa con le regole diciamo col lato maschile e il consiglio qui è di lavorare anche per nutrire il lato femminile perché il lato maschile probabilmente è troppo forte lo dovete silenziare un attimo e dovete aumentare il lato femminile lato anche un po compassionevole di voi cioè non sgridatevi sempre non focalizzatevi sempre su quello che non avete raggiunto ma cercate di essere anche grati a voi e al vostro corpo per aver sopportato tutto quello che avete sopportato fino ad adesso e per i risultati raggiunti fino ad adesso wow diciamo che allora che altro vi posso dire se avete un'attività autonoma espansione ci c'è la possibilità di creare nuove collaborazioni tutto sta però ripeto tra la regina di spade e la forza di volontà a fare dei programmi a focalizzare un obiettivo avete anche la carta della stella focalizzato l'obiettivo e non perdetevi non scoraggiatevi diciamo cammin facendo allora per quello che riguarda le relazioni amorose voglio darvi qualche dettaglio in più perché ragazzi io credo che qualcuno proprio per la questione delle regole mentali che ha non veda anche lì in realtà l'abbondanza dentro la quale è immerso e come vedere sempre il bicchiere a mezzo pieno questo 5 di coppe mi pesa tantissimo vederlo qui perché una persona che si rammarica delle tre coppe rovesciate ma non si rende conto che ce ne sono ancora due in piedi ed è proprio quello non può focalizzarsi su quello che ancora c'è su quello che già avete ragazzi se qualcuno sta cercando dei bambini la seconda parte del 2023 potrebbe essere un periodo fecondo direi di sì ecco non fatevi prendere troppo dalle paure tra la luna 6 di coppe questo 9 di spade perché per una questione di chimica del corpo stare troppo nella paura mantiene come dire sempre in allerta e non è diciamo un buono stato energetico né chimico per il corpo per ricevere una gravidanza quindi attenzione alla paura piuttosto fate degli esercizi di respirazione guardate mi dicono di concentrarvi sull'equilibrio c'è come c'è un esercizio che fanno tipo c'è una sorta di pedana sotto e bombata e ci si mette con un piede e serve per rinforzare le caviglie e serve anche per il proprio equilibrio e non è solo un equilibrio da un punto di vista fisico ma è un equilibrio delle vostre emozioni delle vostre sensazioni quanto vivere per esempio la tristezza e quando dire ok adesso basta l'ho vissuta l'ho integrata adesso bom alzo la testa e vado verso la mia imperatrice che mi porta abbondanza e prosperità anche tenete presente che la luna e anche la sacerdotessa sono due carte di potere femminile e sono due carte collegate all'elemento acqua quindi anche la stella tra l'altro quindi potrebbe essere molto utile per voi anche solo mentre vi fate la doccia pensare al fatto che vi state pulendo energeticamente oppure fare proprio dei lavori tipo in piscina immersi nell'acqua quello potrebbe aiutare proprio tanto il campo energetico bene andiamo a vedere un oracolo si tratta di tirare un po fuori voi stessi ecco infatti guardate cosa è uscita carta numero 14 a dire il vero si parla di togliersi le maschere togliersi le paure le proiezioni le aspettative le rigidità degli altri come vi dicevamo 14 anche un numero angelico cercatelo su internet e come se qui ci fosse qualcuno che è nel momento giusto per svelare la propria verità per cambiare le carte in tavola per arrivare a prosperare guardate a dire il vero non è per voi effettivamente come se ci fosse una sorta di comprensione dire ok io voglio essere più libero o più libera voglio potermi esprimere voglio creare le regole che sono giuste e valide per me voglio provare ad andare verso la mia prosperità verso la mia il mio senso di completamento verso quello che a me fa sentire al sicuro non verso quello verso quello qui per cui vabbè mi sono incartata con l'italiano verso il quale gli altri stanno spingendo questo è una cosa che tendono a fare i genitori spingono i fi ma non solo i genitori in realtà un po tutti certe volte noi pensiamo che di vedere la realtà di un'altra persona e diciamo questa persona vai fai questa cosa dai su è la cosa giusta per te e in realtà non lo sappiamo perché non lo sappiamo perché l'idea che ci siamo fatti noi è filtrata dalla nostra esperienza personale e dalle nostre credenze personali e non è detto che quella cosa che noi pensiamo sia effettivamente così per l'altra persona magari per noi sarebbe un sogno aprire un bar vediamo che a un nostro amico una nostra amica si presenta l'occasione la spingiamo per prenderlo però poi magari lei si rende conto che non era quello che voleva ma è stata semplicemente spinta da voi perché era il vostro sogno ma questo uno non lo fa con intenzione di ferire l'altro più che altro io penso che si faccia per incoraggiare l'altra persona per sostenerla però ecco sta poi all'altra persona capire se quel tipo di strategia è valida e vibra con la sua essenza ok e voi uguale c'è nel senso ognuno è responsabile per se stesso e anche avere una carta numero 6 qui non è per voi è come se vi doveste rendere conto che ora di rompere il karma dovete uscire dalla ruota del karma e ci arrivate ci arrivate bene ragazzi andiamo a vedere ancora un messaggio canalizzato di findorn apriti al flusso interiore dell'amore divino dell'amore universale apri la porta del cuore e non permettere ad alcunché di interrompere questo flusso tieni questa porta spalancata in modo che luce ed amore possono fluire liberamente dentro e attraverso di te e la forza vitale sia sempre manifesta in te e avete la carta della forza ragazzi amici del leone direi che è una bellissima lettura anche per voi sono molto contenta spero che comunque vi sia stata utile per capire come navigare le energie nel prossimo semestre se si potete mettere like potete iscrivervi condividere commentare qualsiasi tipo di supporto per me è importante e di fatto ringrazio tutte le persone che sostengono il canale io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un grosso abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao ciao